La Commissione Territorio Ambiente dell'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato l'articolo 7 sulla ripubblicizzazione dell'acqua che prevede la gestione delle risorse idriche da parte di enti pubblici, anche territoriali, dunque anche da parte dei comuni. Un risultato questo raggiunto dopo una riunione che si è svolta fra i componenti della Commissione che sostengono il Presidente Crocetta, in rappresentanza di PD, UDC, Megafono, DRS, articolo 4 e abbiamo voluto convocare questo incontro per ricompattare la maggioranza sui temi legati alla ripubblicizzazione dell'acqua dicono i componenti del PD in Commissione Territorio Ambiente, con i colleghi del gruppo che hanno contribuito alla stesura del DDL. Quello della gestione pubblica continua la nota, per noi è un punto centrale che abbiamo portato avanti in sintonia e coerenza con i movimenti referendari e con tanti amministratori locali che si sono battuti in questa direzione. Un altro risultato necessario, aggiungono infine, è la previsione di accantonare una quota pari allo 0,2% del fatturato per il sostegno agli utenti meno abbienti.